Circa punti per risalire la classifica al Borgo Sesia che si presenta alla sfida con l'assi reduce da due risultati utili di fila. Gli ospiti fuori casa non hanno mai perso e arrivano da tre pareggi esterni. La gara inizia con una fase di studio interrotta al tredicesimo dalla conclusione di Plado che Gilly trattiene. Undici minuti dopo la marca calcia debolmente. Sul ribaltamento di fronte Yannacone con un cross taglia l'area ma non arriva nessuna deviazione. La gara svolta alla mezz'ora quando Mirarchi viene espulso per doppia munizione. Ne nasce una punizione dal limite che non impensierisce Gilly. Minuto 34 a Zizzi mischiano in quadro specchio della porta. Dopo ci prova Guattieri, palla fuori di poco. Prima del riposo Fossati si avventa sul cross di Pierantozzi, la sfera esce. La ripresa si apre con il Borgo Sesia che si vede annullare un gol. Al terzo Mario indirizza in rete, Fossati in posizione di fuorigioco, la insacca ma tutto viene fermato. Risponde Lassi con un tiro dalla distanza di Picone, Gilly si salva in angolo. Minuto 5, Tomella sugli sviluppi di un corner colpisce il palo. Due minuti dopo che Romi impegna il portiere avversario. Un minuto dopo viene annullato il gol dell'Assi per fuorigioco di Plado. Il vantaggio del Borgosesi arriva al dodicesimo. Con un tocco morbido Giacona si libera di un avversario e castiga Brustolin. Dopo gli ospiti spingono a testa bassa ma la retroguarda granata regge. Fino a quando al 41esimo il direttore di gara vede, solamente lui è il caso di dirlo, un fallo su Sov e concede il rigore che Romi trasforma nel definitivo pareggio. L'ultima occasione è per Giacona che di testa alza la mira.